Folli, geniali, spericolati, è una tribù speciale quella dello snowboard. Il cross poi è adrenalina pura. Gli avversari ti stanno addosso, salti nel vuoto, paraboliche, sorpassi. Per stare in piedi è la vera sfida. Le Olimpiadi le aspetto da sempre, il mio momento è arrivato. Giochi Olimpici, Soci 2014, dal 7 febbraio su Sky Sport.